Buongiorno a tutti, sono Asia Ozzella della classe quinta del liceo classico Cavour. Lo scorso anno scolastico, 2022-2023, la classe quinta A e la quinta G, entrambi dell'indirizzo della comunicazione, abbiamo avuto modo di prendere parte alla realizzazione del progetto della miniserie Il Lago Incantato nell'ambito di un progetto formativo-creativo ideato dal regista Max Chicco in collaborazione appunto con il nostro liceo, liceo classico e musicale Cavour di Torino all'interno del piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal MIUR. Dopo alcuni incontri di formazione e delle esperienze dirette sul set, noi ragazzi abbiamo avuto modo di venire a contatto con il mostro. Un mostro che è l'amianto, che ha distrutto e rovinato le vite di moltissime persone nella zona limitrofa di Balangero e nel comune stesso di Balangero. E questo luogo infatti, la cava dell'amiantifera di Balangero, è stata fino alla fine degli anni Ottanta la cava più sfruttata in Italia e la più grande in Europa. Ci siamo documentati e abbiamo scoperto che in realtà l'amianto, nonostante appunto si parli molto spesso del suo utilizzo che si è fatto nel corso del Novecento, in realtà i ritrovamenti archeologici hanno testimoniato che l'utilizzo dell'amianto si attesta già in epoca antica. Abbiamo trovato dei documenti che ci attestano appunto dell'utilizzo dell'amianto nelle zone della Finlandia, della Scandinavia e della Russia e sappiamo anche grazie alle testimonianze antiche, soprattutto per quanto riguarda l'età classica dello storico erodoto, che ci attesta l'utilizzo dell'amianto per strumenti quotidiani, come ad esempio per produrre cappelli o anche per produrre teli che venivano usati per la cremazione. Sono susseguite altre testimonianze come quella di Teofrasto e anche dell'erudito Strabone. Sappiamo però anche che era percepita la pericolosità dell'amianto perché infatti sono state adottate delle prime misure di sicurezza, a partire anche dalla società egizia, che erano delle maschere di vesciche allentate che venivano poste sul viso per proteggersi, sia dall'inalazione di questa polvere, anche appunto per poter vedere, dato che appunto essendoci molta polvere non si faceva anche molta fatica a vedere. Poi l'utilizzo dell'amianto raggiunge il culmine a poco prima del Novecento, in particolare nel 1878 all'esposizione universale di Parigi l'Italia stessa presenta l'amianto come un minerale che può essere impiegato in moltissimi ambiti anche perché ha delle caratteristiche che lo rendono molto favorevole anche sul mercato perché è ignifugo e permette attraverso l'utilizzo con altri materiali di rendere i materiali più resistenti e anche più flessibili. Arriviamo poi al culmine, cioè nel 1901 con la nascita dell'Eternit. L'Eternit, la lega di cemento e amianto, è stata moltissimo utilizzata nelle costruzioni delle infrastrutture, soprattutto per i tetti dato che è ignifuga. Quindi la riserviamo anche in strutture come ospedali, scuole, dunque strutture in cui una quantità numerosa di persone sottostava. Iniziano però a svilupparsi degli studi riguardo ai rischi che ci possono essere riguardo all'amianto perché aumentano casi di malattie polmonari e arriviamo infatti al primo accertamento di una malattia determinata dall'amianto stesso, ossia la fibrosi polmonare. Le prime testimonianze che ci arrivano anche dall'ambiente culturale le ritroviamo nel 1881, in particolare lo scrittore Paolo Mantegazza sottolinea come non solo fosse dovere dei datori di lavoro preoccuparsi delle condizioni di sicurezza e di igiene in cui i loro lavoratori appunto stavano nell'ambiente del lavoro ma era anche molto importante che i lavoratori stessi avessero a cuore la loro sicurezza e anzi cercassero di far prevalere quella rispetto invece alla comodità. Come è stato detto prima, noi abbiamo preso parte appunto al progetto della realizzazione della miniserie Il Lago Incantato e in particolare siamo venuti a conoscenza della storia dell'amiantifera di Balangero. L'amiantifera di Balangero viene aperta nel 1951 ed è appunto la più grande amiantifera in Europa e la più sfruttata in Italia. I problemi iniziano a svilupparsi appunto intorno agli anni Ottanta perché in questo periodo gli studi sui danni dell'amianto aumentano notevolmente e in seguito all'uscita di un documento nel 1986 dall'OMS si testimonia la presenza di una malattia determinata dall'amianto stesso ossia l'asbestosi polmonare. Questo primo caso era stato studiato da un dottore, il dottor Cook che aveva in particolare studiato il decesso di una donna che per vent'anni aveva lavorato all'interno di una fabbrica di testatura di amianto. Nel 1990 invece poi arriviamo al fallimento e alla chiusura dell'amiantifera di Balangero. Qua possiamo vedere le fotografie che testimoniano i lavori durante la realizzazione dell'amiantifera. Adesso invece parliamo delle testimonianze che ci sono arrivate dall'ambiente culturale e letterario riguardo all'amianto. La prima è quella di Primo Levi che nel sistema periodico descrive l'amiantifera di Balangero come il girone dell'inferno dantesco. Questo perché? Perché l'amiantifera in sé si presenta come un cono ribaltato e i gradoni sembrano ricordare gli imponenti e terribili gironi infernali. Un'altra testimonianza invece ci è stata fornita da Italo Calvino che è inviato per l'unità nel 1954 testimonia le condizioni scarsissime di sicurezza all'interno dell'amiantifera e in particolare sottolinea anche come i lavoratori fossero lì a lavorare per vivere ma in realtà stavano lavorando per morire dati appunto le conseguenze disastrose che l'amianto provoca sui lavoratori. Nel 1992 però arriva la svolta che arriva molto tardi infatti appunto abbiamo sottolineato come l'utilizzo dell'amianto non provenga solo dal 900 ma arrivi molto prima con la legge 257 del 1992 viene tutelata e garantita la condizione di sicurezza nel lavoratore in particolare perché? Perché viene vietata l'estrazione l'importazione la commercializzazione e la produzione di amianto è importante non solo rispettare questa legge in nome dei lavoratori ma è anche importante rispettare questa legge per far sì che l'ambiente in cui i lavoratori stessi si trovano venga preservato e che non venga distrutto o anche che come accade ancora adesso che sia proprio in fase di distruzione e il lago incantato stesso è la prova tangibile che questa speranza si può tradurre in realtà grazie per l'attenzione e ho concluso